Quando poi sono entrato qui, che avevo visto tutta la gente tutta sistemata, tutta incravattata, avevo detto, cavolo, questo deve essere un mondo difficile, un mondo dove c'è da darsi del lei. Invece ho trovato un ambiente tutt'altro, un ambiente dove si sta bene, dove io reputo Anzano un secondo padre. Sono la prima impiegata della società, feci un colloquio, mi piacquero, mi licenziai. Ho conosciuto Euro Anza prima come cliente, una sera Olivia venne a casa, stavano cercando personale, mi proposi per fare un colloquio. Feci questo colloquio e iniziai appunto la mia avventura in Euro Anza. Abituata a lavorare, quindi andare fuori, usare il telefono, trovarmi in un ufficio, vuoto, col telefono che non squillava. Dissi ad Anzano, ma Anzano, ma io non so cosa fare. E lui mi disse, tanto comincia a guardarti le pratiche che ti abbiamo portato, quindi studiati tutti i redditi, tutti i documenti. Parti di lì. Nel giro di un mese e mezzo, e qui lo posso giurare, non gli ho più detto niente. Sono arrivate 3.000 pratiche, una dietro quell'altra, e non sapevo veramente da che parte rifarmi. Ho iniziato da piccolino dando i volantini. Dopo qualche mese la società mi dette l'opportunità di provare a imparare un prodotto. Per me era il primo lavoro d'ufficio, quindi io non sapevo assolutamente come suonasse un fax, tant'è che lo confondevo con lo squillo del telefono. Grandi aspettative da ragazzino non ce ne avevo, no? E non avevo fatto nemmeno all'inizio degli studi che mi potessero permettere di sboccare in un lavoro del genere. Daniela è stata la mia mentore, praticamente mi ha insegnato tutto di questo lavoro. Ha assistito ai miei disastri, però appunto con la pazienza dei colleghi, con tanta buona volontà, poi ho iniziato a imparare, a rispondere al telefono. Che sembra una cosa banale, ma per chi non ha mai fatto lavoro d'ufficio è una roba da imparare. Mi hanno aiutato a proseguire poi gli studi, sia a livello scolastico che a livello lavorativo, quindi mi hanno dato fiducia. La cosa bella è stata quella. Questa è un'azienda dove ci si confronta molto, c'è un rapporto diretto anche con Ansano, con Olivia, con Mario e con Luca. E il confronto secondo me è alla base della crescita, sia personale che professionale, in qualsiasi settore. Qui credono nelle persone, se vedono la buona volontà ti danno l'opportunità di fare quello che vuoi. Questo è un lavoro in cui si impara sempre qualcosa di nuovo tutti i giorni. Sono contenta di far parte di questa azienda. Noi si entra qui, è come essere usciti di casa per andare in un'altra casa. Nessuno di noi ha orari. Noi tante volte ci soffermiamo anche la sera, anche solo per stare insieme noi. Secondo me questa è la parte più bella del lavoro. Abbiamo aperto nel giro di tre anni sette uffici, fino ad arrivare a quello che siamo oggi. Ora lavoro in un'azienda enorme. È vero, prima eravamo tutti qui, prima ci vedevamo tutti. Adesso però fa anche un po' di soddisfazione parlare un po' con tutte le realtà d'Italia. Siamo un gruppo oggi leader nel settore della mediazione del credito. E non ci fermeremo qui. Siamo un gruppo oggi.